San Giuseppe rappresenta tutta Cattolica Araclea, io stesso oggi rimango veramente meravigliato dalla grande devozione a San Giuseppe, non c'è persona di Cattolica che non sia devota a San Giuseppe, qui e oltreoceano anche tutti quelli che sono immigrati nelle diverse parti del mondo, che sia in Germania, che sia in Canada, negli Stati Uniti, Svizzera, ovunque questa devozione rimane viva, a tra proposito salutiamo quelli del Canada che andremo ad incontrare proprio nei prossimi giorni, proprio per la devozione a San Giuseppe, l'augurio è quelli che tutti possono conformarsi a San Giuseppe, non solo rivolgersi a lui per avere le grazie che egli stesso richiede al figlio suo Gesù, ma anche per poter ricevere la provvidenza in termini di grazia santificante, a lui affidiamo tutta Cattolica Araclea adesso e durante tutta questa giornata, a tutti buona festa di San Giuseppe!